Una donazione di 1.500 euro all'Associazione Luna, il centro che opera contro il fenomeno della violenza sulle donne. L'assegno è stato consegnato dal sindaco Mario Pardini, dal consigliere comunale Stefano Pierini e dal comandante dei Vigili del Fuoco di Lucca, Calogero Daidone, ai rappresentanti dell'associazione. La somma donata è stata raccolta in occasione della manifestazione Pompieropoli, che si è stato associato a un raduno di motociclisti ed appassionati. È trattato di un'iniziativa solidale che è scaturita proprio da un'idea della nostra associazione nazionale Vigili del Fuoco in Concedo, perché loro solitamente, ordinariamente diciamo, sono impegnati nel sociale ma anche nella cultura della sicurezza. Infatti con il loro gioco attrattivo, lo chiamo io il famoso Pompieropoli, riescono a coinvolgere sia i bambini sia le famiglie, quindi i genitori, in questo importante percorso anche educativo diciamo per quanto riguarda i bambini, anche per quanto riguarda la sicurezza in casa e così via. Quest'anno hanno pensato proprio di fare una Pompieropoli solidale. Guarda caso la prima in Italia in assoluto è che il comando ha sposato immediatamente diciamo questa idea e sicuramente visto anche quello che è accaduto nel recente passato e che è continuo e speriamo non si verifichi più, diciamo abbiamo pensato proprio di dare un supporto a un'associazione che opera nel settore della solidarietà per quanto riguarda diciamo la tutela delle donne. Oggi 8 marzo, festa della donna, siamo molto soddisfatti di essere qui, l'amministrazione e tante associazioni per contribuire all'associazione della Luna, un'associazione che combatte la violenza sulle donne e è importante quindi il significato di questo messaggio che viene fatto proprio oggi. I rappresentanti dell'associazione Luna hanno ringraziato tutte le realtà del territorio che stanno supportando la loro delicata attività. Noi del centro antiviolenza vogliamo davvero ringraziare per l'appoggio che il territorio ci dà veramente, quest'oggi non è tanto la cifra l'importante ma è davvero sapere vederci qui in una sala importante tutti insieme, che lavoriamo insieme, che prepariamo insomma una comunicazione per tutti contro la violenza di genere che è una cosa importantissima perché noi lavoriamo giornalmente tra di noi, tra di noi operatrici ma se non avessimo la rete del territorio e l'appoggio sociale non andremo da nessuna parte. Quindi grazie veramente a tutti, grazie alle associazioni coinvolte, agli sponsor, a tutti. Veramente grazie mille. Grazie mille.